nei giorni in cui la lunga crisi idrica sembra volgere al termine complice l'inverno ecco che in alcuni comuni della provincia di pescara la troppa acqua piovuta manda in tilt il sistema il paradosso è servito se non piove non abbiamo acqua se piove troppo non la possiamo utilizzare perché diventa torbida insomma piove sul bagnato colpa dei filtri alla sorgente la morgia filtri che per ora non ci sono ma che a causa delle improvvise piogge violente figlie del cambiamento climatico sono diventati necessari a spiegarlo è il direttore tecnico dell'aca lorenzo livello che come sempre ci mette la faccia c'è stata questa violenza acquazzone che ha intorbidito la parte superficiale della falda diciamo di attingimento della sorgente quindi parliamo di materiali inerte terriccio sabbia materiale calcario che si è stato trascinato da questa violento flusso che improvvisamente è arrivato i parametri a ieri sera l'ultimo prelievo abbiamo fatto alle 6 uno dei dei tre punti monitorati è rientrato volevamo ricontrollarli stamattina abbiamo fatto prelievi alle 8 stamattina alle 10 ogni due ore stiamo ripetendo confidiamo perché lo strumento diciamo l'acqua è limpidissima è tornata alla normalità solo che lo strumento mi deve leggere un valore inferiore a 1 se non legge inferiore a 1 non posso dichiarare potabilità nella mattinata addirittura nel primo pomeriggio riusciamo ad avere risposte positive su tutti i comuni il cambiamento climatico ci sta portando a riflettere su alcuni cambiamenti di strategie di progettuali nel senso che sulla morgia questi eventi erano molto rari più frequenti sul vitella d'oro che è una sorgente un po più diciamo gli imbocchi gli imbocchi di acqua piovana nella zona di rigopiano portano questi trascinamenti tant'è che addirittura la cassa mezzogiorno progettò e realizzò i filtri su affarindola sulla morgia dobbiamo a questo punto pensare di progettare e magari inserire in questo filone di progetti che stiamo portando avanti con per richiedere finanziamenti pnrr magari se ci riusciamo è stato un po paradossale no quando non c'è acqua e non esce dei rubinetti quando ce n'è troppa perché piove troppo l'acqua esce fangosa insomma che croce abbiamo addosso la priorità è ridurre le perdite noi con questi progetti che stiamo preparando ormai siamo quasi arrivati alla stesura definitiva se a dicembre escono queste linee guida questi questi bandi del pnrr come ci hanno preannunciato che già sono usciti per le regioni del sud quindi a dicembre pare che escano per noi poi avremo 45 giorni di tempo per presentare i progetti speriamo di diciamo avere questi finanziamenti e partire con questi lavori per ridurre le perdite